una cosa interessante che l'avrò detta anche questa mille volte ricordatevi che voi potete vedere solo le cose che conoscete questo me ne sto accorgendo io in questi giorni sto come al solito studiando sempre di più infatti vedete che non creo più tanti video perché a parte i flow perché sto studiando tanto a mano a mano che conosco cose nuove ultimamente lo dicevo l'altro giorno mi si sono aperte le conoscenze che sto cercando da tutte altre fonti cioè ormai adesso prima studiavo i trainer quelli commerciali poi mi hanno stufato perché tanto sono commerciali vogliono solo guadagnare studiavo la natura la natura è sempre un ottima insegnante perché la natura ci dà le soluzioni ma per capire dove nascono i problemi oppure chi ci ha creato i problemi se così si possono chiamare o meglio chi ci ha creato i condizionamenti dobbiamo andare alla fonte non non a chiacchiere ma dobbiamo andare proprio alla fonte fonte che in genere non è disponibile in genere sono abbastanza segrete o sono fatti in modo che tu neanche ci metti mano quando accedi a determinate conoscenze ti rendi conto infatti l'altro giorno mi sono reso conto che avendo avuto conoscenze nuove nella mia mente si sono reimpastati un po tutto perché mia le nuove conoscenze mi ha permesso di vedere cose vecchie in maniera nuova e questa è la cosa interessante ricordate voi potete vedere solo ciò che conoscete wad blip dice questo fu una delle cose che mi colpì di wad blip wad blip si parla della storia di delle caravelle di colombo dove gli indigeni quando videro le caravelle non le videro cioè non le riuscivano a vedere lo sciamano di allora vide le onde incresparsi ma non vedeva le caravelle perché non sapeva che esisteva se io non conosco una cosa non la riesco a vedere ci ha messo del tempo per riuscire a capire che stava arrivando qualcosa che lui non conosceva quindi questo è il motivo per cui magari noi potremmo essere qui attorno pieni di non so entità extraterrestri o folletti o scazzamurid come li chiamano a foggia e non li vediamo perché non li conosciamo e poi magari scopriamo che ne so un'ombra una sensazione un odore faceva parte di quella roba lì ma finché non lo conosciamo non sappiamo possiamo vedere ecco perché dico la conoscenza è alla base dell'accrescimento delle delle nostre intuizioni cioè a voglia noi a di l'intuizione ci arriva sì ma l'intuizione ci arriva sempre in funzione della nostra conoscenza perché se ci arriva se ci arrivasse un'intuizione in giapponese noi non la capiremmo e questa è la cosa il concetto cioè l'intuizione ci può arrivare a un livello di conoscenza a cui noi siamo più aumentiamo la conoscenza più aumentiamo le intuizioni molto semplice da capire se conosciamo due lingue ci arriva l'intuizione in una lingua che non conosciamo sarà pure un'intuizione geniale ma non ci capiamo una minchia se conoscessimo anche quella lingua allora quando conosciamo quella lingua capiamo quell'intuizione che magari ci è arrivata tempo prima ed è quello che è accaduto a me che sta accadendo a me in questi giorni che sto mettendo in chiaro molte cose quindi per questo proprio perché mi tutta roba detto tra noi ragazzi mi sto leggendo buona parte buona parte insomma tanti libri tutti i vari book che abbiamo su suona era la nostra fortuna di aver creato questa piattaforma ricordatevi che una era nasce per questo per darvi conoscenza rende liberi è vero bisogna avere la conoscenza e la conoscenza a volte è nei luoghi più inaspettati anzi probabilmente la migliore conoscenza è quella dove non crediamo di trovarla ecco perché vi dico di spaziare cioè di non stare a conoscere sempre solite cose per la serie se voi siete vegani non prendete solo libri di vegani la conoscete già quella roba prendete libri di che cacchio ne so di qualunque altra roba perché ampliate i vostri piani di conoscenza cioè la mattonella dei vegani la conoscete andate avanti andate andate oltre perché sennò siete sempre nella vostra gabbietta infatti adesso sto spaziando dalla manipolazione delle masse al governo ombra al false flag al tutta una serie di cose che è vero che hanno un tema però è così che inizio a mettere i puntini da una parte tutti assieme grazie a tutti